Presidente, lei con una lettera si rivolge, lo ha fatto negli ultimi giorni ai parlamentari abruzzesi, al Presidente nazionale e al Vicepresidente del Lance, per chiedere che il super bonus venga esteso negli anni, perché è un progetto che non può avere una durata di un anno e mezzo. È naturale questo. Io ho cercato di sensibilizzare anche tutti i nostri senatori e parlamentari abruzzesi affinché si capisca quanto è importante poter mettere queste agevolazioni che devono essere di volano per la ripresa del PIL e dell'economia italiana, ma in un anno e mezzo non è possibile poterlo fare. Questi lavori oggi al 110% in tutta Italia valgono circa 6 mila miliardi. È impensabile poterlo fare in un anno e mezzo. I lavori con questa burocrazia della legge non possono essere fatti in una maniera, soprattutto iniziati in una maniera celera e poi soprattutto non possono essere fatti di corsa se si vuole la qualità. Quindi per il bene di tutti, soprattutto dell'economia italiana, ma anche dei proprietari degli appartamenti, i lavori devono essere fatti da imprese serie, con indubbia qualità e soprattutto nel tempo. Lei chiede che il superbonus diventi sistema nel paese Italia? Se diventa sistema con un impegno addirittura quasi per a zero possiamo dire. Io ho riportato anche nella lettera una ricostruzione e un'indagine commissionata dalla Camera dei Deputati fatta fare dal Cresme di Bellicini che addirittura dice che il costo per i bonus fiscali finora che i bonus fiscali ci sono ormai da 21 anni, hanno prodotto un costo per lo Stato solo dell'8% in questi 21 anni, questi bonus sono varsi circa 322 miliardi. Per lo Stato in 21 anni il costo è stato solo e soltanto di circa 28 miliardi. Però dice anche in questa ricostruzione, in questo studio del Cresme, che se viene calcolato a 360 gradi tutti i benefici per i proprietari delle case, addirittura lo Stato ha un guadagno nel tempo.